Oggi mia figlia Anastasia ha preparato il tortino al cioccolato, morbido morbido. Ora vediamo con gli ingredienti. 100 g di cioccolato fondente, 90 g di burro, tagliato a dadini. Sciogliete il cioccolato al microonde oppure a bagnomaria. Questo è il risultato dopo averlo sciolto. Mettete tutto dentro una pirofila. Poi aggiungete 80 g di zucchero semolato. Girate tutto con un frustino e aggiungete 2 uova. Amalgamate bene tutto. Aggiungete ancora 20 g di farina. Mischiate bene fino a che sarà assorbita tutta la farina. Poi imburrate dei pirottini e passateli un po' anche con il cacao in modo che non si attacchi il tortino. Mettete in ogni pirottino un po' del composto. Poi mettete tutto su una teglia da forno e cuocete a 180 gradi per 12 minuti. Se vi piace la ricetta commentate anche con una sola faccina. Grazie! Liberate i tortini quasi subito dallo stampino. Poi metteteli in un piatto e spolverateli con lo zucchero a velo. Adesso faccio la prova del cucchiaio per l'assaggio. Eccolo, il tortino è morbidissimo con un cioccolato cremosissimo. Grazie e alla prossima ricetta!